Siamo pronti per ascoltare le prime parole al volo del nuovo sindaco di Ligione, Renata Tosi! Prima di tutto non è una vittoria mia e non è retorica ma è una vittoria nostra, non sarei andata da nessuna parte senza di voi. Voi siete stati mitici, tutti, questo lavoro di squadra ha pagato, la città si è ripresa e il comune, non è altro e noi oggi siamo chiamati a un grandissimo compito. Ma non mi fa assolutamente paura perché sento di non essere da sola, perché noi siamo partiti con una squadra e diventeremo una squadra ancora più grande. Paga zero ma tanta tanta passione, lo sapete siamo stati, abbiamo fatto un miracolo sotto tutti i punti di vista e voi lo sapevate, che era difficilissimo recuperare ma è stata un'altra partita, non abbiamo ammollato un secondo, siete stati magnifici, siete stati veramente unici, quindi si siamo presi la nostra città. Grazie! Grazie!